Bella a tutti ragazzi, sono Stitcher con i7 Oggi siamo qui in questo prossimo video su G5 Online Oggi ragazzi vi porto questa nuova mega rampa E da quanto ho capito è una mega rampa tripla Quindi attenzione, attenzione, attenzione Andiamo, che c'è pure il suino oggi con noi Vai, sui Ok, ci siamo, ci siamo, andiamo Ok, piano, 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 piano Cominciamo già male Ci trollano, ci trollano Ok, vai, vai, andiamo bene Tranquilli che siamo tanti Quindi devo fare attenzione Guardali tutti che scatti giù Aspettate, chi è sopravvissuto? Solo io, perfetto Perfetto, andiamo E qua bisogna avere una certa Una certa, un certo ritmo Se si può dire Un certo andamento Perché se no se andiamo troppo veloce, troppo piano Cioè bisogna più o meno andare in una velocità costante Così non ci trolliamo Poi dipende, dipende Perché se la mega rampa non è proprio perfetta Magari a volte ci strulla comunque Quindi andiamo, andiamo, andiamo Però là è bellissimo Andiamo, occhio, occhio, occhio Attenzione qua Vediamo le tre mega rampe E noi ne abbiamo fatto Abbiamo fatto quella centrale Adesso credo che facciamo quella di destra Andiamo, andiamo, senza rispondere Perché tanto Questa macchina frena benissimo Non ha problemi di là Ah, mannaggia a me Non ho visto il cartello qua Ok Stavo già sbagliando Andiamo, 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 andiamo Ok Ci siamo Scendiamo Forse è un po' troppo veloce Aspettate Aspettate E niente, niente, niente E niente Ero troppo a sinistra Ho voluto bilanciare un po' Se avessi andato troppo a destra E vabbè E vabbè Vediamo un po' chi c'è qua adesso Ok, eccoci Ma come siamo ottavi? Ma Scusate Da primo ottavo in un attimo Va bene Va bene Eh, ma nei miei rampi un attimo È normalissimo Come nei face to face Ti trolli una volta E finisce male Aspettate Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno Che vedo Che sono tutti Qua Noi Pichiamo su Ok Ho colpito un suino Ho colpito un suino Va bene Andiamo su Andiamo su Andiamo su Ci arrampichiamo qua Vai vai Spingetemi Andiamo 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 Ok Siamo quarti Siamo quarti O al cosina L'abbiamo recuperato Mi sono affrontato Forse un po' troppo Giù Però va bene È complesso Come vedete Non è proprio Quella in mezzo È facile Perché è tutta uguale Questa invece È più complessa Questa qua di destra Invece questa qua Questa che staremo Per fare adesso A vedersi così Dovebbe essere Passata tranquilla Bella ondurata Tutta bella uguale Non ci dovrebbero Essere problemi Però È ovvio E quando Non ci sono problemi I problemi comunque Saltano fuori ovunque Aspettate Per ora Con la moto Diciamo che È quasi sempre Facile fare le mega rampe Più o meno Più o meno Ok Per ora Attenzione Stiamo recuperando Eppure un po' di scia Andiamo Andiamo Piano 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 Ok ci siamo Stavo di nuovo Quasi Per cascare giù Ero lì sul filo Ero lì sul filo Stiamo a secondi Quindi va Stra bene Andiamo 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 Veli su Dove sta C'è Ok Quella centrale Allora Attenzione Passare sopra Che sotto Visto prima È un po' tosta È passare sotto Ok Respondiamo Per qua L'apc È un po' lento A frenare Va bene Va bene Siamo Secondi A posto A posto Andiamo giù Andiamo giù Questa deve essere Abbastanza facile L'abbiamo fatta prima Non ci siamo trollati Quindi andiamo 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 Veli Tranquilli Con calma È la parola magica Ok Vedete poi Oh C'è una nuvoletta laggiù Ma L'avete la sua sinistra Che lagga pure Ma chi è Oh guarda lì Guarda lì Forse è forte cielo Forse è forte cielo Poverino È così È così Ah ma via Forse ci ha lasciato Aro Non lo so Non lo so Comunque Per ora Non sembra trollare Anche perché l'apc Impenna un po' Però non Non dovrebbe trollare Non dovrebbe andare di colpo A destra A sinistra Quindi Siamo passati tranquilli Mi fido dell'apc Andiamo 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 Ok Il primo è qua davanti a noi Quindi non ci scappa Dove vuole scappare Dove vuole scappare Il primo Allora Per ora Va bene Adesso dove siamo Mega rampa Questa qua Occhio Questa qua Di destra Che adesso È veramente sotto di noi Però Dovebbe essere Quella un po' Più tosta Vediamo un po' Adesso Piano Respawniamo Respawniamo Di solito Conviene sempre A meno che Non ci mettiamo i secoli A respawnare Però Però era sempre Che respawniamo Abbastanza in fretta Quindi Non ci sono problemi Piano Aspettate Ma qua Forse si può recuperare No Andavo troppo giù veloce Però Non è detto che si possa Si può recuperare Secondo me È fattibile È fattibile Laggiù ci sta su Davanti Quindi Attenzione Attenzione Occhio Piano 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 Oh Caspita A filo A filo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Andiamo 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 Qua Lì è tosta È tosta È tosta Dovevo vedere Dove stare attenti Occhio No No Caschiamo Diamo Lì Aspettate Se frena È qua Qua si recupera È qua Si recupera Che cazzo Ce la rifacciamo No che non ce la rifacciamo Andiamo giù Andiamo giù Olle E ce l'abbiamo fatta Mamma mia L'altra è un po' più difficile Perché se caschiamo Troppo veloci Vogliamo giù Questo invece Se non sbaglio Dietro È Ha un muretto Quindi comunque Andiamo a toccare Si recupera Facci niente Andiamo Andiamo Però là Siamo tranquilli Andiamo Belli su Andiamo Belli su Olè 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 Adesso Credo sia A Totalmente Alla nostra destra Sembra Quindi la mega rampa di sinistra Aspettate Esatto 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 Poi il solito C'è che era quella Passiamo sempre sopra Perché sotto Ci sono passato una volta Ma c'ho paura C'ho paura Aspettate che adesso Ci sta Il maggio Oh Eccolo qua Che finalmente è modificato Era ora Era ora Da un botto Non ce l'avevo Modificato Il maggio Finalmente l'ho modificato Almeno Possiamo Possiamo Correre pure noi Andiamo 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 Occhio No 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 Qua è preso male Qua ci vuole Una certa Certo andamento E qua Dobbiamo fare attenzione Stiamo andando un po' Tutti squilibrati Aspettate E se atterriamo Proprio sul dosso Non è uno dei migliori Atterraggi Occhio 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 Attenzione Attenzione Dovamo cercare di atterrare Nella parte piatta Perché il dosso Non vorrei Facesse un po' Bagare tutto Attenzione Attenzione Occhio Ok Atterriamo bene Atterriamo bene Ci siamo Il primo Il primo si è trollato Stava davanti a me Mentre parlavo Ma ancora ho visto Si è trovato Perfetto Perfetto Di tornare ci sta Suino Attenzione Attenzione Il suino c'era Non lo vedo Non lo vedo Sulla mia mappa Magari Un pochettino Più dietro Forse lì sotto Si 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 Lì sotto Lì sotto Se mi trollo Ci recupero Quindi dobbiamo fare attenzione Dobbiamo fare attenzione Ole 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 Vai Oh Col di un Attenzione E poi Ci abbiamo pure Il dio moddato Quindi Perfetto Andiamo 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 Bello 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 Dio moddato Peccato che non si può cambiare Modificare sul momento Adesso però Vabbè Vabbè Qualche Cambiamentino Gli avete fatto Però va bene così Va bene così Andiamo Giù Piano 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 Ci siamo Un altro Saltellino Ok No Piano E il dio E niente Niente Bisogna fare attenzione Che qua A differenza Della pc Pure la pc In penna Ma il dio Il dio È ancora peggio Il dio Appena fa un minimo Un mini atterraggio In penna subito E va tutto storto Quindi dobbiamo fare Molta attenzione Che poi qua Che sta pure Il suino Dietro Piano 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 E niente Ci siamo trovati Noi E il suino Mamma mia Ok Nel tempo qua Ci ha recuperato Pure qualcun altro E quindi Si è ammessi bene Direi Attenzione 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 Qua è tosta Allora Facciamo piano Oh no L'altro lato L'altro suino Aspettate 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 Allora Andiamo a piano E qua Stiamo accurando Che col di un Oh Occhio È perfetto Perché non facciamo Troppo saltino Strano Troppo Sobbalzo E va benissimo Comunque Siamo primi E hanno ucciso Suino Va Va bene Va bene E qua dobbiamo fare attenzione Che magari Gli apc Chi ce l'ha modificato Magari C'ha le bombette E chi le lascia Se mi sbaglio Quella pc Si passava qua E quindi Dobbiamo fare attenzione Andiamo Andiamo No Eccole 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 No Mamma mia Tre bombette Minimo Ci stavano Lì davanti Ho schivato Ho schivato Quella di destra E quella di sinistra Purtroppo Era inevitabile Inevitabile Attenzione Magari qualcun altro Davanti Ci fa Ce le prende Non lo so Non lo so Magari il suino È morto per quello Per attenzione Per attenzione Che è tosta È tosta Piano Ci sta pure Uno tra l'altro Ok 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 Vai Ci siamo Ci siamo Andiamo giù Con calma Ok Qua le posizioni Siamo un po' in bilico Secondo me Siamo C'è Credo Tra la prima E la sesta Sono qua In questa In questa rampa Quindi dobbiamo fare attenzione Siamo secondi Dobbiamo fare attenzione Qua c'è pure gli aerei Non vorrei Vivere Sare addosso Prima qualcuno Mi ha fatto impennare Solo che non ho visto in tempo il nome Non saprei Chi potrebbe essere Va bene Va bene Va bene Ok Piano 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 Ok ci siamo Allora attenzione Qua con le bombette Io vado piano Non mi fido Non sembra Ci sia niente Ok Posso 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 Andiamo bene Tranquilli Andiamo su Credo sia Tutto sinistra Sì 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 La mega rampa tutta di sinistra Andiamo 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 Che questa È abbastanza fattibile Un po' trollosa Credo che però Quella trollosa La più trollosa È quella È quella Con Con le dune Quella su giù Quella sì che è tosta Qua lì ti fa baggare il veicolo Dobbiamo fare attenzione Lì sì Lì sì che è tosta Olè Col quaddino È qua Col quaddino Ho paura di cadere È qua col quad È un attimo cadere È un atterraggio sbagliato E si cade Dobbiamo fare attenzione Occhio Troppo veloci No no Va benissimo Va benissimo così Ci siamo Siamo Sei ondi A posto così Allora qua Non so più qua C'era No no Si va giù tranquilli Si va giù tranquilli Ok Non ci deve essere più salti Di strani No fosse qua Qua Aspettate Recupera Eh sì Recupera Mamma mia Seconda volta che Avete recuperato così Andiamo 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 Occhio 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 Andiamo Andiamo Guarda chi c'è qua C'è sta porca Sui Guardalo Guardalo C'ha visto C'è sta Andiamo Guardalo Guardalo Che cerca di rigirarmi Attenzione Attenzione Andiamo 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 Ok Siamo terzi Siamo terzi Per ora È tutto sotto controllo Poi quando cominciamo a trollarci di più Non è più Sotto controllo Allora Attenzione Qua Abbiamo dei laser Credo sia tutto a destra Questo giro Eh sì 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 Ok Chi ci sta laggiù Che sta facendo tutti i vari giretti Oh guarda lì Ma che cavolo Ok Va bene Va bene Vedete che poi cascano lì sotto Sono tutti quelli di un trollati Il di un Il di un troll Credo sia il più Il veicolo più trolloso Per adesso Che abbiamo incontrato In questa mega rampa E non si scherzano Il di un Dobbiamo fare attenzione Dobbiamo fare attenzione Allora andiamo giù Andiamo giù Ok Ok No 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 Piano piano Si impenna troppo E per attenzione Guarda lì Oh Oppure Ancora con la shotaro Stasso suino Poverino Attenzione Ok Sono volati giù tutti Sono volati giù tutti Cerchiamo di Mantenere Un andamento Costante Ciao eh Ciao Mamma mia mia E qua E un attimo Oppure troppo Si bugga Facilmente Qua sui saltini Immagino il dune Su quei saltini Che disastro Che disastro Che disastro Meno male che è stato di là Invece il dune Già di là il dune è tosto Il dune è tosto Il dune è tosto un po' in tutto E qua Incomincia a impennare E un attimo Un attimo Piano 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 Che paura Aspettate Aspettate Io parlo qua Tranquillo Però succede di tutto Allora Facciamo attenzione Ole Frena Frena No Di nuovo Di nuovo E caschiamo E niente Ci devo fare È incredibile È incredibile Mi sono trollato Quattro ola Dune Quattro ola Bisogna andare costanti Se andiamo costanti Saltiamo nel punto giusto E perfetto Ecco Sta velocità Dovemo prendere Ole Aspettate Aspettate Forse così Perfetto Aspettate Ok Ok Non bisogna Né andare Sparatissimi Nelle mega rampe Né Cioè Si Troppo pieno Si può fare Però A volte Non conviene Andare Costanti Con l'andamento giusto Vedete Così Perfetto Spettacolo 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 Ok Ce la stiamo facendo Per ora Nessun troll Ci sono beccato Suino ha già concluso Guarda Non è veloce Com'è veloce Aspettate Aspettate Noi dobbiamo concludere Diabelli veloci Diabelli veloci Ci dovremmo essere Quasi Mi sa eh Più o meno Più o meno Ci siamo Aspettate Aspettate Che qua È un po' critica La situazione Più o meno Ci dovremmo essere Pochi c'è Che mancano Dare che ci siamo Ci siamo Ci siamo Eh si Ormai Ormai siamo ovviamente Arrivati Olle Macchina E qua Ah qua C'è la scelta C'è la scelta Di dove andiamo Dove andiamo noi Io andrei A sinistra Eh dite Ah no a sinistra No in centro Alla fine In centro In centro Andiamo giù Andiamo giù Con la supra Piano eh Piano Non ci dobbiamo trollare Perché la supra Non trolla In teoria È abbastanza È abbastanza controllata È abbastanza controllabile Già di suo Occhio Un po' alla volta Facciamo attenzione Ok Ok Un altro saltellino Un altro saltellino Ci siamo Ci siamo Ci siamo Pian piano Si va giù Pian piano Si va giù Il traguardo Sta Sta tutto A destra E quindi Noi Terriamo su questo Bianco E vabbè Cadiamo Cadiamo Sull'altro Non è Non è un problema Occhio alle bombette Ma Non ci dovrebbe essere più niente L'apc Se mi sbaglio L'abbia usata solo una volta Meno male Meno male Se no era veramente un disastro O lei La solita Ci sta il traguardo Mamma mia Attenzione È tosta È tosta Sta Sta mega rampa Andiamo a concludere Terzi Perfettosi Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mettete un bel like Iscrivetevi al canale Commentatevi su Instagram Noi ci vediamo Per questo video Bella